benvenuti con voi in tv questa è l'ultima puntata di questa serie poi forse ne faremo delle altre se l'editore lo deciderà e se i fatti che avvengono intorno a noi ce lo permetteranno dico questo perché siamo in uno stato veramente un po di disagio cominciamo a parlare di uno dei tanti disagi riguarda il martellamento continuo che viene fatto dalla rai perché si debba pagare il canone per questo è un po una truffa noi paghiamo il canone su che cosa su un programma che non sappiamo se è buono se non è buono se ci piace se non ci piace se infarcito o meno di pubblicità o di sozzate di altro genere è come se uno compra una cassetta di mele magari molte mele sono buone altre non lo sono altre sono acerbe o altre sono marce può succedere e allora perché dobbiamo pagare una cosa che non conosciamo la cassetta di mele gliela ributtiamo dietro al venditore il canone non possiamo lo paghiamo paghiamo perché siamo un popolo di parte non tutti naturalmente in prevalenza il popolo di conigli anche pecore che diciamo sempre di sì e ci lasciamo così far vittime e be di una dittatura che una dittatura che riguarda non il nostro pensiero non siamo mai consultati noi hanno fatto l'euro chiesto hanno deciso che facevano l'euro hanno fatto l'europa hanno deciso che hanno chiesto piaceva l'europa non hanno chiesto andava bene così ha fatto digitale ecco ora torniamo sul digitale il digitale un'altra delle imposizioni molto prevaricanti per imporci una spesa supplementare a quelle che erano le spese che solitamente facevamo per sopravvivere allora dobbiamo mettere digitale che tra l'altro oltretutto digitale che noi abbiamo qui in italia anche in europa è una forma di digitale superato in america l'hanno già superato perché evidentemente sono andati più avanti noi siamo rimasti come sempre indietro il tallone d'achille perché è nato il digitale digitale è dato perché evidentemente qualcuno aveva un interesse che nascesse perché doveva il vampiro statale succhiarci un po di sangue paghiamo il canne per qualcosa che non abbiamo la cosa più logica sarebbe non pagarlo logica noi non paghiamo il canone ma se io dico non paghiamo il canone poi qualcuno si arrabbia e dice è un incitamento alla rivolta in effetti siamo per una rivolta noi vorremmo fare anche noi una rivolta una rivolta culturale ben inteso nella quale si potesse dare spazio anche al popolo che ripeto in parte di conigli in parte di pecore ma in gran parte anche di gente intelligente gente che capisce qual è il vero valore della vita andiamo avanti con digitale e paghiamo tutto quello che continueremo a pagare per non vedere niente i quadrettini il segnale che va che viene esposta e anche una mancanza di rispetto verso quelle persone meno giovani che non sanno nemmeno usare il telecomando lo usano come lo usavano tradizionalmente allora cosa dobbiamo fare cosa c'è che proposta ci fa il sacchi con voi e noi in televisione nessuno chinare la spalle la schiena e andare avanti come dei sommari come siamo sempre andati avanti potrebbe esserci una salvezza a questo modo molto vampiresco di usare la nostra vita che potrebbe esserci un ci potrebbe essere ed è un mezzo nuovo e vecchio nello stesso tempo nuovo perché noi non abbiamo ancora usato vecchio perché in altri paesi già lo usano tu vedi sul tuo televisore quello che vedi o vedresti attraverso al computer una qualità molto alta perché non viene disturbata dalle queste atmosfere che arriva sul web non arriva attraverso il digitale che molto disturbato e allora forse questa è veramente la salvezza della nuova tv che poi è la vecchia tv perché torniamo comunque al cavo quello che noi vi diciamo abbiamo voluto dirvi in questa chiusura della seconda serie di voi e noi in televisione speriamo di risentirci di rivederci magari attraverso la web magari attraverso internet e a tutti per il momento tanti tanti auguri anche un abbraccio dopo qualche settimana è giusto che ci sia ciao a tutti a proposito dei disturbi provocati in genere dal digitale terrestre vi proponiamo uno straccio dell'intervento del comitato di redazione direi tre piemonte sull'argomento su questo punto il vice presidente della commissione deputato torinese giorgio merlo ha sollecitato l'intervento urgente del governo il ministero preposto ha detto merlo deve provvedere con risorse adeguate e mezzi pertinenti per evitare che la rai scompaia da molte aree del paese a cominciare appunto dalla nostra regione dal piemonte del comitato di redazione di torino ha incontrato la direzione aziendale si è così appreso che i disservizi non dipendono dalla rai ma da interferenze dovute alla distribuzione delle frequenze assegnate dal ministero il servizio pubblico trasmette infatti su un canale digitale che non ha in esclusiva il comitato di redazione di torino chiede dunque agli enti locali alle forze politiche di farsi portavoce presso il ministero delle comunicazioni di questi problemi che limitano fortemente la visione dei programmi rai nello stesso incontro il comitato di redazione ha ribadito la necessità di risposte chiare e in tempi brevi per risolvere le carenze delle dotazioni tecniche che riguardano la redazione giornalistica piemontese e ne comprimono pesantemente le possibilità informative in attesa di queste risposte la redazione mantiene lo stato di agitazione infine è intervenuto anche il gruppo consigliare del pdl alla provincia di torino il segnale digitale scrive il pdl in un comunicato si riceve male o non si riceve del tutto in almeno 60 comuni della provincia invece di produrre maggiori benefici la digitalizzazione sta aggravando i problemi per gli telespettatori per questo lunedì 7 marzo si riunirà a torino il tavolo istituzionale fra regione provincia rai ministero arpa e coreco grazie a tutti grazie a tutti